17 milioni di euro a disposizione del Papa per finanziare la solidarietà della Chiesa nel mondo. Sono gli utili del bilancio 2018 dell'Istituto per le Opere di Religione, pubblicato oggi. Dai 32 del 2017 il calo è pesante, quasi della metà, ma non desta troppe ansie. Il 2018, recita il sintetico resoconto fornito alla stampa, è stato un anno piuttosto turbolento per i mercati e tra gli attivi spiccano comunque altre voci, non solo numeri come i 2 milioni di euro risparmiati di costi di gestione, c'è il sostegno ad attività sociali di beneficenza, tramite sia donazioni in denaro, sia affitti a canoni agevolati di immobili dell'Istituto, il cui scopo è offrire servizi finanziari alle istituzioni della Chiesa Cattolica per l'amministrazione dei loro patrimoni, rispetto al passato di scandali che ne ha compromesso la fama, I passi avanti compiuti in anni recenti sono tanti, tra cui, informa il bilancio 2018, una selezione ancora più attenta di attività ed imprese su cui investire, in coerenza con l'etica cattolica e in conformità con la dottrina sociale della Chiesa.